Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti nel commento, nell'analisi della partita e nelle pagelle del lunch match di questa giornata di Serie A si è giocato al Franchi di Firenze la partita tra Fiorentina e Lazio Una partita interessante, la Fiorentina alla ricerca della sua prima vittoria stagionale La Lazio invece che era alla ricerca di continuità dopo la vittoria sul Verona Ha vinto la Fiorentina 2-1, tante polemiche, tante situazioni di cui parlare Ne parliamo adesso in questo video Cominciamo però dalle formazioni perché soprattutto dal lato della Lazio ci sono delle cose interessanti di cui parlare delle formazioni Cominciamo però parlando della Fiorentina, della squadra di casa che grosso modo conferma lo stesso assetto tattico visto nella trasferta di Bergamo Quindi un 3-5-1-1 con un centrocampo a tre puro con Bove, Mandragora e Cataldi La scelta di formazione è differente considerando che Pongracic mancava per infortuni E' quella di Komuzzo al centro della difesa con Biraghi a sinistra e quarta a destra Scelta che io personalmente condivido perché secondo me Ranieri non ha le caratteristiche per fare il centrale di difesa Komuzzo è molto più adatto quindi se manca Pongracic è giusto che la prima alternativa in quel ruolo lì sia proprio Komuzzo Quindi è una scelta che io ho condiviso e che tra l'altro avevo contestato a Paladino nel post partita della trasferta di Bergamo Davanti sempre scelta con colpani a supporto di Ken Quindi nessuna novità di formazione se non appunto quella di Komuzzo al posto di Ranieri E invece la Lazio che fa una formazione un po' particolare La particolarità intanto comincia con la difesa perché la coppia scelta è quella di Patrick e Ghila Quindi una difesa atipica, penso sia la prima volta che giocano insieme quest'anno Ma soprattutto la scelta di Castrovilli in mediana insieme a Gendusi con Noslin schierato falso 9 Una soluzione che Baroni spesso ha adottato in quel di Verona nel giro di ritorno l'anno scorso Quando Noslin è arrivato appunto al Verona dal Fortuna Sittard E molto spesso Baroni lo ha schierato falso 9 nel Verona Adotta questa soluzione anche la Lazio vista l'assenza di Castegianos Quindi gioca Noslin con a supporto di A E poi Isaacsen sulla destra e Zaccagni sulla sinistra Questa invece è una scelta che mi lascia molto perplesso Perché secondo me Noslin non può fare il centro avanti di una squadra di questo livello Può adattarsi a fare il centro avanti ma non può essere la prima alternativa Soprattutto se così c'è di A in campo Cioè se c'è di A in campo metti di A a fare il riferimento offensivo E tutt'al più metti Noslin a supporto Fai una formazione un pochino più equilibrata semmai So che Veroni, visti sei mesi a Verona l'anno scorso Che gli hanno dato grande soddisfazione a lui personale L'hanno anche lanciato in carriera E appunto arrivando sulla panchina Lazio Ha questa mentalità iperoffensiva Che è quella che gli ha fatto cambiare anche un pochino Come si può dire L'identikit no? Proprio come profilo di allenatore Però secondo me in questa situazione Se non hai un centro avanti di riserva puro E la Lazio non ce l'ha nella Rosa Un centro avanti di riserva A Casteggiano Se metti di A come riferimento offensivo E gioca semmai con due incursori Che potevano essere Castrovilli e Delebasciru ad esempio Cioè secondo me questa formazione Non è idonea A mio avviso ovviamente Veniamo però alla partita Allora una partita dove La Lazio ha giocato meglio Ha coperto meglio il campo Sapeva meglio anche cosa fare Con la palla tra i piedi Quando arrivava sulla tre quarti offensiva di campo Aveva anche molte più soluzioni Una Lazio che ha fatto molto interscambio Tra i quattro giocatori offensivi A parte Zaccagni che grossomodo ha ricoperto sempre la stessa posizione Gli altri invece si sono mossi molto Noslin faceva riferimento offensivo Ma poi calava molto la sua posizione Isaacsen ha giocato ovunque Perché sull'occasione ad esempio di Zaccagni Che ha calciato Trovando la parata di De Gea Isaacsen è andato su quel lato del campo A fare il dribbling Quindi un attacco molto versatile Della Lazio Che ha messo un po' in difficoltà La difesa della Fiorentina Non centralmente quanto sugli esterni Dove anche le discese di Lazeri e Tavares Insomma Hanno creato dei discreti grattacapi A Dodò e a Gosens Che hanno dovuto ripiegare molto E quindi dare poi anche meno una mano In fase offensiva La Fiorentina invece in fase di costruzione Si è accesa soltanto in transizione Nelle situazioni di recupero palla Il palo ad esempio di Colpani Dove Provedel fa una parata clamorosa La parata di Provedel è eccezionale Deriva appunto da un recupero palla Cataldi esce su D.A. Che non difende bene il pallone con il corpo Recupera palla Poi Kenne dà una palla bellissima A Colpani che si infila Con Gila che lo perde Calcia subito col piede debole Calcia anche bene Però Provedel para ottimamente con il piede Quella è l'unica grande occasione della Fiorentina Nel primo tempo E arriva appunto su una palla recuperata Una Fiorentina che anche in questa partita Secondo me Si schiera con un assetto tattico A proteggere la difesa Perché si preoccupa molto della sua difesa Che non ha dato grandi garanzie In questo inizio di stagione E quindi mette un centrocampo di picchiatori Diciamo così Perché comunque Cataldi, Mandragora e Bove Sono giocatori molto più orientati Alla fase difensiva che a quella di possesso Però poi manca brillantezza Quando la palla invece ce l'ha La squadra viola nella costruzione Questi tre calciatori non riescono A darti un grande contributo Cataldi è un giocatore ordinato Ma non offensivo E Mandragora e Bove Sono giocatori molto scolastici Quando si tratta di andare avanti Mandragora quando è in partita Fa anche buone cose Però non era questo il caso E quindi mancava un po' di inventiva Mancava anche un po' di rapidità Nel possesso palla E quindi la manovra della Fiorentina Era molto prevedibile La pressione di Gendusi ha funzionato Nello sporcare molti inizi di manovra Insomma all'altezza del centrocampo della Fiorentina E quindi un primo tempo Che la Lazio chiude in vantaggio Con il gol di Gila Su calcio di punizione Battuto splendidamente da Tavares Gila perso da Comuzzo Che commette forse il suo unico errore Di una partita comunque positiva Dove gestisce Berenoslin Dove chiude tante linee di passaggio Lì si perde Gila che fa un bel movimento Sicuramente a tagliare Però c'è l'errore evidente di Comuzzo Che può anche essere stato tratto in inganno Dalla finta Perché sulla punizione calcia Tavares Ma aveva fintato di calciarla credo Zaccagni Insomma chi era con il destro Che aveva fintato la punizione E quello comunque ha fatto perdere un pochino La linea e la marcatura In area di rigore Detto questo Lazio che meritava assolutamente il vantaggio Aveva giocato meglio Aveva creato delle buone opportunità da gol Era stato bravo anche De Gea In un paio di circostanze Soprattutto sul diagonale di Dia Che aveva tirato bello secco Sul secondo palo Ed è stato bravo ad andare giù De Gea Poi ha fatto la parata su Zaccagni Ha fatto insomma degli interventi importanti De Gea niente di sensazionale Cioè la parata di Provedel È di un'altra categoria Rispetto appunto a tutti gli interventi Che ha fatto De Gea Però De Gea ne ha fatti tanti Ecco questo è un po' il concetto Poi per quanto riguarda C'è stata un'altra grande occasione in realtà Per la Fiorentina Con Dodò che ha strappato palla a Gila In area di rigore Gila che si è un po' addormentato Sinceramente in quella circostanza Però poi Dodò Non alza la testa Cioè davanti alla porta Dà per scontato che ci sia Ken in area di rigore Mette la palla arretrata Però Ken invece era dietro a Patrick Che aveva letto anche probabilmente L'errore del compagno E si era messo davanti All'attaccante della Fiorentina Lì in errore di Dodò Che insomma Si è fidato troppo Del senso dell'anticipo Del compagno di squadra Ma doveva alzare la testa Chiaramente Andiamo alla ripresa Nella ripresa Paladino fa Fa una scelta Particolare Perché toglie i due braccetti di difesa Cioè Quarta e Biraghi E inserisce Gudmundson E Ranieri Quindi passa sostanzialmente Sostanzialmente ad una difesa a quattro Con Comuzzo e Ranieri come centrali di difesa E con Dodò e Gosens come terzini bassi Quindi la squadra diventa un 4-3-2-1 Sostanzialmente Con poi il centrocampo che rimane invariato E con Colpani a supporto di Gudmundson Questa scelta di formazione In realtà ha sfilacciato tantissimo la Fiorentina Che ha difeso molto peggio Nel secondo tempo Ha fatto tanta fatica Sugli esterni Soprattutto Perché Dodò attaccava molto Ma non aveva copertura Non aveva assolutamente copertura Dai centrocampisti E quindi Su quel lato lì La Fiorentina Allora diciamo che sia la Fiorentina Che la Lazio Hanno attaccato prevalentemente Su quel lato Proprio perché i giocatori Di entrambe le squadre Sono prettamente offensivi E quindi La fase difensiva Su quel lato lì Di entrambe le squadre È stata piuttosto carente Tant'è che tutte le occasioni La Fiorentina Nascono principalmente Sul lato destro del campo E tutte le occasioni La Lazio Nascono principalmente Sul lato sinistro Del campo Però un cambio di modulo Che a me personalmente Non ha convinto Soprattutto con questi interpreti Gosens e Terzino Non è riuscito assolutamente A dare il suo contributo Non è praticamente più Arrivato sul fondo Quasi mai E non tiene bene la linea Cioè non è un terzino Non sa fare quel ruolo Poi lo puoi imparare Ma sì A 30 anni si può imparare tutto Perché sei un calciatore maturo Però Insomma È una forzatura Importante Tutto al più Ecco se vuoi passare La difesa a 4 Togli a questo punto Appunto Gosens E lascia Piraghi A fare il terzino Non ha senso adattarci Gosens La difesa a 4 Secondo me Non ha funzionato bene Anche se Al centro La Fiorentina complessivamente Ha rischiato anche meno Però Non Anche Molto più sfilacciata La squadra Cioè La ricerca costante Del gioco sugli esterni Quando giochi con un 3-5-2 Ha anche più una logica Con un 4-3-2-1 Che è quello che la Fiorentina Ha fatto nella ripresa E È stata una soluzione Molto Molto forzata Che secondo me Ha fatto perdere anche equilibrio Alla squadra Tant'è che insomma Ci sono stati tanti attacchi E contrattacchi Che se nella Lazio Diciamo Fa parte anche Del credo calcistico Di Baroni Che è appunto Un allenatore molto offensivo Nella Fiorentina Questa cosa invece È un pochino più Eh Più 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 fuori luogo Soprattutto la sostituzione successiva Con Cuame al posto di Mandragora Quella è stata veramente Una sostituzione senza senso Perché Ha sbilanciato Completamente la Fiorentina E ha completamente concesso Il centro campo In mano Alla Lazio Che poi in quei 20 minuti Ha dominato appunto In quella zona del campo Poi Si è creato Dei presupposti Ha preso una traversa Ha avuto un paio di opportunità Non sfruttate È stato bravo Comuzzo In un paio di circostanze Anche Ranieri Ha fatto un buon salvataggio Ci sono state un altro paio Di parate Di De Gea Quella sul tiro a fuori Di Gendusin È anche troppo pulita Diciamo Sotto questo punto di vista Ha lasciato la palla Lì Si è rischiato Però Ecco Io personalmente Da tifoso della Fiorentina Avevo visto segnali più positivi Nella trasferta di Bergamo Paradossalmente Cioè La Fiorentina ha perso Poteva prendere anche più di tre gol Perché l'Atalanta Aveva costruito tanto Però avevo visto una Fiorentina Che Al di fuori degli errori individuali Di Ranieri Su due gol Era molto più Più messa Cioè Era messa meglio in campo Copriva meglio il campo E Ha costruito tante palle gol Nitide Invece In questa In questa partita Tanti si è parlato Cioè Tanti a Firenze Insomma Nei vari gruppi di tifosi Anche Opinionisti Giornalisti Eccetera Chiaramente Il risultato decide tutto La Fiorentina Ha vinto Diciamocelo sinceramente Immeritatamente Non ha giocato bene Ha vinto con due rigori Da calcio moderno Che Per i regolamenti attuali Sono netti Entrambi Però sono due rigori Diciamo Su ingenuità individuali Di Gendusi Soprattutto Quella di Gendusi È un errore grave Perché comunque Lì non si affonda mai Il take In area di rigore Su un giocatore Che sta andando Verso il fallo laterale E Quella di Tavares Invece È bravo Dodò Perché è finta al cross Quindi fa Un altro passo in avanti Tavares va in contropasso Perché Inizialmente vuole allungare la gamba Per contrastare il primo cross E poi Dodò va avanti Quindi lui va in contropasso E arriva in ritardo Poi sul secondo cross Cioè sul cross effettivo Di Dodò Che viene effettuato Precisamente sulla linea Del fondo campo Quindi Sono due ingenuità Quella di Gendusi grave Quella di Tavares È secondo me Più giustificata All'inerzia dell'azione Che concedono due calci di rigore La Fiorentina La vince Con questi due calci di rigore Però La qualità del gioco Secondo me Non è migliorata Rispetto alla precedente Anzi è peggiorata Rispetto alla trasferta Di Bergamo E si è giocato Anche a un ritmo Inferiore Si è giocato Una partita Dove Si è fatto fatica Anche a tenere palla Quindi Una Fiorentina Che secondo me Chiaramente poi ribadisco Il risultato Comanda su tutto Siccome Fiorentina ha vinto Allora va tutto bene No Non è così C'è ancora tanto lavoro Da fare La vittoria è arrivata Chiaramente da tifoso Sono contento Perché sono tre punti Che fanno comodo Che fanno un po' di entusiasmo Danno morale Insomma Serviva un po' di ossigeno È arrivato Però siamo ancora lontani Anni luce Cioè La Lazio è venuta a Firenze A fare la partita Ha giocato molto meglio Meritava ampiamente Quanto meno di pareggiare Probabilmente anche di vincere Bisogna essere onesti in questo Gli episodi hanno girato A nostro favore Quest'oggi Ogni tanto Va bene anche così Però Bisogna anche ammettere Che siamo ben lontani Dalla qualità del gioco Che deve essere proposta Con questi interpreti E secondo me Il principale lavoro Deve essere fatto a centro campo Perché questo centro campo Mandragora Bove Cataldi Non funziona Non funziona assolutamente Le palle non arrivano davanti Non arrivano pulite Non c'è il giusto supporto Alla manovra E Di contro Non c'è neanche grande filtro L'unico che lo fa Concretamente È Cataldi Gli altri non riescono assolutamente A dare contributo Quindi secondo me Mandragora e Bove Dovrebbero essere alternativi L'un l'altro Perché sono due giocatori simili Mentre dall'altra parte O opti Per la fisicità di Richardson E per le capacità di strappo Nel raddoppio di marcatura Che ha Lex Reims Oppure opti Sulle geometrie Sulla qualità Un po' d'affermo Però Superiore Di Adli Tre giocatori così Che sicuramente Sono molto più Dinamici Ecco Rispetto agli altri due Però poi Perdi Perdi di qualità Perdi di iniziative Perdi di responsabilità E' una Fiorentina Che a centrocampo Non mi convince E che Il cui cambio modulo Nel secondo tempo Fermo restando Che un 4-4-1-1 Ci può anche stare In questa squadra Visti gli interpreti Ma non con questi giocatori Vuoi fare il 4-4-1-1 Benissimo Caio De Terzino destro Biraghi Terzino sinistro Coppia di centrali Pongracic Quarta Quando ci sarà Pongracic Esterno destro Di centrocampo Dodò Esterno sinistro Di centrocampo Gosens alternative Puoi mettere Sottil Puoi mettere Parisi Puoi mettere Icone Che può fare quel ruolo Coppia di Mediani Metti Mandragora E Cataldi E poi giochi con Goodmund Sono alle spalle di Ken Dei fa fuori colpani Se vuoi giocare Col 4-4-2 Non c'è storie A questo punto Con il 4-4-1-1 Puoi dare anche Un vero ruolo A Kwame Che può fare la seconda punta Puoi dare un vero ruolo A Beltran Che può fare la seconda punta Cioè nel senso Può avere una logica Puoi fare il 4-4-1-1 Questa rosa Può anche avere una logica Con il 4-4-1-1 Perché è stata costruita male Tecnicamente Doveva essere costruita Per il 3-4-2-1 Ma sono stati fatti Degli errori In fase di mercato Quindi può avere una logica Anche il 4-4-1-1 Ma non come è stato messo In campo oggi Con 4-5 giolatori Fuori ruolo Cioè Così assolutamente Assolutamente no Quindi Frentia deve lavorare tanto Per la Lazio È arrivata una sconfitta Brutta Perché arriva l'ultimo minuto Su un rigore Episodico Però è una Lazio Che ha dato buone Buone impressioni Soprattutto appunto Offensive E poi alla fine In difesa Ha rischiato relativamente poco Se non per qualche dormita Di Gila Che poi alla fine È stato il calciatore Che ha sbagliato Di più Difensivamente parlando Quindi Complessivamente per me È una partita Comunque Positiva della Lazio Che esce con 0 punti Ma il cui percorso Di assimilazione Dei criteri calcistici Di Baroni Sta andando abbastanza bene Pesa tanto Il fatto di non avere Un vice casteggiano Spesa veramente tanto Perché non avere Un calciatore Che sa fare Quel tipo di lavoro Diventa Diventa influente Perché il giocatore Può mancare Anche perché Ci sono le coppie Giochi ogni tre giorni Insomma Ogni tanto Poi Casteggiano Non è proprio Un'inscalfibile A uno che si fa male È un colosso Degli X-Men E quindi Io penso che Quella lacuna Lì sul mercato Sia veramente pesante Perché se l'alternativa A Casteggiano È No Slin O lo stesso di A Che comunque Nel far reparto Non è bravissimo Perché non ha Quella fisicità lì E devi un pochino Cambiare anche L'impostazione della partita Comunque io credo Che Baroni Sia un po' vittima Della nuova etichetta Che si è fatto Cioè questa cosa Di dover sempre giocare Con quattro attaccanti È quello che Lo ha fatto uscire Un pochino Dalla cerchia Degli allenatori Catenacciari Da zona retrocessione E l'ha fatto arrivare Alla Lazio Però serve comunque Anche un pochino Un qualche compromesso Cioè La Lazio Ha creato Una spaccatura Tra la difesa E l'attacco Che grazie Al modulo Che ha messo in campo Paladino Nel secondo tempo È riuscita Diciamo a ricucire Perché la Fiorentina Ha regalato Il centrocampo Alla Lazio Con quelle scelte Folle di formazioni Che ha fatto Paladino Però C'è veramente Troppa spaccatura E soprattutto Se i mediani Sono Gendusi E Castrovilli Sono comunque Giocatori dinamici Che però Non ti tengono La posizione Sono giocatori Che non hanno La serenità Palla al piede Se magari Se magari hai bisogno Di partire Dal basso Mentre gli altri Sono tutti giocatori Comunque Iperoffensivi Che non Ti danno mole A centrocampo Quindi secondo me Serve comunque Cercare un pochino Più di equilibrio Soprattutto quando Giochi contro squadre In trasferta Magari Che giocano Per la vittoria Cioè la Fiorentina Sull'1 a 1 Ha cercato di vincere Con le sue armi Ma ha cercato di vincere Quindi Secondo me La Lazio Deve trovare un pochino Più di equilibrio Il che non significa Passare a un Molto più tradizionale 4-3-3 E cambiare modulo Perché Perché La coppia di A Casteggiano Sta funzionato Però serve Un pochino più Rovella deve giocare Cioè io non sono Un stimatore di Rovella Ma se vuoi giocare Col centrocampo a 2 Rovella ci deve stare Per forza Perché è quello Che ti dà un po' di ordine Non puoi giocare senza di lui E Devi chiedere Veramente tanto sacrificio A due esterni Zaccagni lo fa Isaacsen un po' meno E Quindi Quello sicuramente Va Va considerato Andiamo alle pagiare Delle due squadre Cominciamo con La Fiorentina Allora a De Gea Diamo un 6 e mezzo Perché comunque Quando è stato chiamato in causa Anche con Stilisticamente rivedibile Però È stato efficace Quindi 6 e mezzo Quarta 5 e mezzo Su quel lato Ha sofferto tanto Sia Zaccagni Ma anche Tavares Ma anche Isaacsen Quando si è spostato lì Ma anche Di A Quando si è spostato lì Ha rischiato Più di una volta Infatti è stato sostituito Più che per motivi tattici Secondo me Proprio per motivi tecnici Stava soffrendo Nel primo tempo Gli diamo 5 e mezzo Biraghi molto meglio Biraghi meglio Gli diamo un 6 e meno Ha rischiato meno Anche se Quando arrivava Lazzari In piena corsa E Isaacsen era lì a supporto Insomma anche Biraghi Si è trovato un po' in difficoltà Però Sicuramente meglio Di due compagni di reparto Diciamo nel primo tempo 6 e meno Comuzzo Allora io gli do 6 e meno Nonostante l'errore sul gol Perché sostanzialmente È l'unico errore che fa E quindi È un errore che Ha fatto una partita Da 6 e mezzo Secondo me Gravata da questo errore Che gli fa perdere Un voto Insomma Quindi gli diamo Un 6 e meno Perché Ha marcato benissimo Noslin Sfruttando anche la sua Fisicità superiore È stato molto attento A coprire Gli svarioni Anche di Biraghi E di Quarta Nel primo tempo Che insomma A volte sono stati saltati E lui ha coperto Sempre quella posizione Nella difesa a 4 Si è trovato bene Insieme a Ranieri Quindi Una buona partita Comuzzo 6 e meno Migliore in campo È Dodoli Dò 7 Perché Perché è stato il più Intraprendente Il più pericoloso Tutte le palle goal Sono nate da lui Sostanzialmente A parte quella di Colpani Insomma Sono nate tutte da lui Ha messo tanti cross Interessanti in area Su cui poi la Fiorentina Non ne ha approfittato Perché di sotto Dozo non è un grande Crossatore Invece Questa giornata Ha messo dentro Tanti palloni tesi Belli Propizia del rigore Della vittoria Dà dei palloni Veramente importanti E poi Fa veramente Tutta la fascia Per tutta la partita Un giocatore instancabile 7 per Dodò Molto peggio Cosens Dall'altro lato Che non ha giocato bene Gli do un 5 e mezzo Perché Perché non ha dato una mano A Biraghi Nel primo tempo Difensivamente parlando E nel secondo tempo Invece è costretto Alla fase difensiva Ha fatto Tanta fatica Si è visto poco Con i suoi tagli In area di rigore Anche tutti i cross Che ha messo Dodò Tanti poteva arrivare lui E invece non è mai arrivato Gli diamo un 5 e mezzo A centro campo Centro campo Allora 5 e mezzo per Mandragora Diciamo il peggiore in campo Perché Giocatore che non ha Fatto valere La La sua esperienza La sua fisicità Ma anche I suoi inserimenti Le sue aperture Cioè Un giocatore che comunque Ha un po' di responsabilità In questo centro campo Lo deve un po' Prendere per mano E Non lo ha fatto E non l'ha assolutamente fatto E anche sui palloni Alti insomma E Sui palloni alti Cioè I corni E le punizioni Insomma Per la Lazio Si è visto poco 5 e mezzo Peggiore in campo Cataldi Li do 6 più Da una sua riconquista Palla alta Lasce il palo di Colpani E' ordinato Nel possesso E' un giocatore Scolastico In fase di Di regia Sicuramente Non è Non è un grande inventore Non è uno che detta tempi In maniera eccezionale Però E' pulito Perde pochi palloni Ed è l'unico Di questo centrocampo E comunque Da una mano dietro Cioè E' l'unico Che va in raddoppio Che va ad aiutare la difesa Perché gli altri Non lo fanno O comunque Non lo fanno in maniera Efficace Con i tempi giusti Quindi Un 6 più A Cataldi Lo diamo 6 meno Per Bove Che Quanto meno Ha provato a non lasciare solo Ken O comunque I giocatori offensivi La Fiorentina Cioè si è sempre proposto Al limite dell'area O comunque Sulla tre quarti avversaria Però non è mai riuscita A entrare realmente In partita In fase di possesso E in fase di non possesso Il giocatore deve essere Assolutamente Molto più determinante Perché Quando la squadra soffre Lui Non c'è quasi mai Gli do un 6 Un 6 meno Di incoraggiamento Ma anche In questa partita Non mi ha fatto impazzire 6 meno Anche per Colpani Che Intanto Grande notizia È arrivato fino all'ottantesimo Quindi Questo è sicuramente Un grande miglioramento Atletico Per il giocatore Che anche l'anno scorso A Monza Insomma Solitamente Verso il sessantesimo Veniva sostituito Proprio con Palladino In panchina Partita Dove Chiaramente Ci sono stati Degli errori tecnici Gravi Un paio di ripartenze Dove ha sbagliato L'appoggio Anche semplice Però Ha sfiorato il gol Insomma Non segna solo Perché davanti È un portiere Che fa la parata Della giornata Perché la parata Che fa prove Almeno delle partite Che ho visto finora È la parata più bella Della giornata Di Serie A E poi È molto più vivo In partita Insomma È un grande spirito È un grande sacrificio Lui comunque Torna indietro Aiuta Manca qualità Manca qualità Però la quantità In questa partita C'è stata Quindi gli do un 6 meno A Ken Positiva 6 per Ken Duello vinto L'assist A suo favore Però Se nella sconfitta Contro l'Atalanta Ci avevo visto Del positivo Avevo visto Delle buone cose Quindi l'avevo comunque Incentivato Questa partita Invece secondo me Non ha funzionato Quindi Do un 5 pieno A Palladino Fase difensiva Ancora molto rivedibile Il centrocampo Non funziona assolutamente Cambi nel secondo tempo Folli Quindi Quindi gli diamo Gli diamo Un 5 Andiamo ai voti Della Lazio E cominciamo appunto Da 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 Provvedel A cui io do comunque Un voto importante Perché gli do un 7 meno Perché fa Fa veramente Una parata Di Di alto Altissimo Profilo E quindi Provvedel Direi che Per una questione Proprio di coerenza Con i voti E il migliore in campo Perché Perché fa una grande parata Anche se poi Fa solo quella Sostanzialmente Ovviamente su due rigori Non può nulla In realtà fa anche Un altro intervento Su Kenne Ma è molto semplice Poi A Lazari Diamo un 6 Qualche buona Sovrapposizione Qualche Qualche buona Accelerazione Dietro non rischia Sostanzialmente nulla Però Manca di incisività 6 A Tavares Do 6 più Perché comunque Fa perdere la squadra Però è un fallo Sfortunato È un fallo Occasionale È un fallo Da calcio moderno Ma la partita È importante Concede tanto spazio A Dodò Ma è una scelta Io penso Condivisa dai due allenatori Cioè hanno detto Va bene Vediamo Chi ha la meglio I nostri due terzini Li lasciamo attaccare E chi se ne frega Di difendere Questa è stata un pochino La concezione Di entrambi Perché Nessuno dei due Ha mai ripiegato Particolarmente In difesa Mentre hanno spinto Tanto entrambi Tavares comunque Ha battuto una bella punizione Sul gol Ha Ha toccato veramente Tanti palloni davanti Cioè È un attaccante aggiunto Praticamente Ha giocato bene Chiaramente lo penalizzo È una partita da 7 meno Questa Lo penalizzo Per il rigore Ma non troppo Perché appunto È un rigore sfortunato 6 più Patrick Si perde Ken Su quel colpo di testa Che poi l'attaccante Della Fiorentina Spedisce al lato Però complessivamente Fa una partita sufficiente Quindi gli do un 6 meno Per quell'errore Su Ken È molto attento Insomma Anche sulla palla Persa da Gila Quindi Gli diamo un 6 meno Per quanto riguarda Gila Invece La do 6 e mezzo Per il gol Però Molto lacunoso Anche in questa partita Perde il pallone Sul pressing Di Dodò Dove poi chiude Patrick Lascia un corridoio A colpani Clamoroso Sul palo Insomma Un Gila Che difensivamente Non ha dato grandi garanzie Non aveva giocato bene Neanche contro il Verona Contro il Verona Ha giocato malissimo In questa partita Qualche miglioramento Si è visto Ma anche perché La Fiorentina Ha attaccato A ritmi inferiori Rispetto a quanto Non aveva fatto il Verona All'Olimpico Però ha fatto gol Quindi gli diamo Un 6 e mezzo Per il gol Ma la partita è insufficiente Gendusi 5 e mezzo Partita buona In questo caso Questa è una partita Da 6 e mezzo Che però subisce Per il fallo del rigore Che è una cosa Che è una cosa Veramente di una stupidità Immane Cioè quello è veramente Un fallo stupido Quello di Tavares Sebbene A livello Regolamentare Siano catalogati Nello stesso modo Cioè sono due Step on foot Uno È uno step on foot Diciamo Inerziale Che è quello di Tavares Che è sfortunato Quello di Gendusi Invece è voluto Cioè è proprio stupido Tavares va a cercare Di contrastare il cross E poi il piede Li finisce su quello Di Dodò Ribadisco Il rigore moderno Che ci sta Però È una situazione sfortunata Gendusi invece Affonda proprio il te Che è stupido Cioè hai davanti Un giocatore nettamente Più tecnico di te Che ha sbagliato il controllo Ma non è che puoi dare Per scontato Che allora abbia perso Il possesso palla Lì è proprio Eccesso di sicurezza E anche di sottovalutazione Dell'avversario Che poi infatti Arriva leggermente prima Sposta il pallone E prende il rigore Ed è un rigore stupido Che comunque Ridà entusiasmo Alla Fiorentina Subito inizio ripresa Insomma Indirizza un po' la gara Anche se poi Comunque La Lazio la domina Però Gli do un 5 e mezzo Per questo errore Perché la partita In realtà sarebbe stata Molto positiva Ha preso anche Un'altra versa Ha sfiorato il gol Però 5 e mezzo Castrovilli È tanto fumo E poco arrosto Insomma Ha toccato tanti palloni Ha cercato Qualche verticalizzazione Qualche strappo Dei suoi Però Però è mancato Di concretezza Negli ultimi metri Poi alla fine L'ha sempre passata Indietro In orizzontale Cioè Un po' Un po' Un po' leggerino Ecco Un po' leggerino Anche nelle iniziative Sicuramente Barone si aspettava Qualcosa di più Poi per l'appunto Gioca contro la sua Ex squadra Dove è cresciuto E sono scelte Particolari E questo Cioè È stato preferito Lui a Dele Baciru Che credo fosse Disponibile Cioè Dele Baciru Io penso Fosse in panchina Forse era meglio Dele Baciru Che con i suoi Strappi fisici Poteva veramente Spaccare in due La Fiorentina 5 e mezzo Isaacsen è stato Il migliore in campo Poi lo do Lo do a provvedere Perché gli ho dato Un voto più alto Perché la parata è bella Però di quelli di movimento È stata migliore in campo Nel primo tempo Soprattutto È stata una spina Nel fianco Di tutti i difensori La Fiorentina Perché Ha veramente svariato Su tutto il fronte Sempre giocate tecniche Funzionali Palloni interessanti Ha dialogato bene Con i compagni Insomma Una bella partita La migliore Di quest'anno Per me Di Isaacsen E gli diamo Un 6 e mezzo Di A Allora perdeva il pallone Velenosissimo Che porta al palo Di Colpani Poi però Fa una buona partita Sfiora il gol Con un bel tiro Diagonale Dove De Gea È bravo E poi Comunque La Lazio si appoggia Molto su di lui Che fa questo lavoro Da falso 10 Perché esiste Il falso 9 Lui fa il falso 10 E lo fa Con le sue caratteristiche Ma in maniera Abbastanza efficace Quindi gli diamo Un 6 e meno 5 e mezzo Per Zaccagni Invece Che Partita Un po' Bulica Non è la prima Di questo Inizio di stagione Sinceramente È Il giocatore Che si sta calando Molto in questo ruolo Alla Lazovic Per intenderci Cioè Un ruolo dove Fai l'esterno L'attacco Ma devi fare anche Tanta tanta fase Difensiva E quindi poi Perde di lucidità Davanti Questo Questo è evidente È un ruolo Che tra l'altro Anche con Tudor Faceva Perché Tudor Faceva 3-4-2-1 E Zaccagni Lo metteva a tutta fascia Più volte L'ha messo In quel ruolo lì Però La predisposizione È giusta Però poi Il risultato In partita Non è esaltante 5 e mezzo Peggiore in campo Nozlin E Interpreta il ruolo Di centroavanti In maniera Inadeguata Per una squadra Di questo livello Per una partita Di questo tipo Non vince quasi mai Il duello fisico Con Comuzzo Perde quasi tutti I duelli aerei Arriva spesso In ritardo Su Sui palloni Anche in area di rigore In una ripartenza Ben impostata Dalla Lazio Dove Era involato A rete Ha sbagliato Il controllo Palla Ha tagliato il campo E si è fatto anticipare Appunto Da Comuzzo Bruta partita 5 per Nozlin Che proprio Non ha iniziato Assolutamente bene La sua avventura Alla Lazio Ma io un po' Me lo aspettavo Subentrati A Rovella Diamo 6 Ha dato sicuramente Con le geometrie Che sono mancate In tutto il primo tempo C'ha un A 6 meno Non è entrato benissimo In partita Insomma Sicuramente Aveva fatto meglio I Saxen E quello è un cambio Sbagliato Di Baroni Secondo me Perché I Saxen Stava giocando bene Tutta al più Toglino Oslin O togli anche Zaccagni Però Non togli Non togli I Saxen Quello è un cambio Sbagliato 6 meno Per C'ha un A Marusic C'è anche lui 6 meno C'è la Lazio Ha cercato di spingere Ma Marusic Non è mai entrato In azioni pericolose Da parte di Bianco Celesti Voto a Baroni Io comunque Li do un 6 più Perché la Lazio Ha giocato la sua partita Ha giocato bene La perde su degli episodi Molto sfortunata Sicuramente Però Una partita Impostata bene Dove però Ci sono dei dubbi Il primo dubbio È quello che Se vuoi giocare Con un centrocampo a 2 Non puoi escludere Rovella Dall'11 titolare Parentesi Tanto valeva tenere Cataldi Perché se dovevi dar via Cataldi Gratis alla Fiorentina Allora tanto valeva tenere lui Come vice Rovella Perché manca un giocatore Con quelle caratteristiche Se Rovella non c'è O se lo vuoi far rifiatare E il cambio di Isaacson È sbagliato No sling c'entra avanti Non si può vedere No sling c'entra avanti Non si può vedere Con gli stessi giocatori In campo Potevi fare una conformazione Tattica Differente Che magari Poteva funzionare di più A livello di equilibri A livello di Di proprio Di sentirsi a proprio agio Dei calciatori in campo Però magari Con così tanti giocatori In attacco Hai tolto un po' Riferimento alla Fiorentina Che ha fatto difficoltà A difendere Sono Diciamo La coperta è corta L'hai tirata più Da questo lato Che dall'altro Però complessivamente Comunque Lazio Ha fatto una buona partita In trasferta È mancato il risultato Però la prestazione C'è stata Lavorando così Giocando così Secondo me Poi i risultati Arriveranno Se riesce A ripetere Queste prestazioni Magari con Rovella E Casteggiano Sin campo Che chiaramente Il secondo Non era disponibile Quest'oggi Bene Il mio video Si conclude qua Vi invito a scrivere Nei commenti Cosa ne pensate Di questa partita Di queste due squadre Delle mie pagelle Dite la vostra Commentate numerosi Io leggo e rispondo Sempre a tutti Iscrivetevi al canale Se non lo siete Per supportarmi Condividete il video Con le persone Che pensate Possano apprezzare I miei contenuti Soprattutto tifosi Da Fiorentina Che comunque Sono un tifoso viola Quindi è la squadra Che seguo maggiormente Però la Lazio Dall'anno scorso Insomma sono arrivati Tanti tifosi Della Lazio Sul mio canale Quindi è una squadra A cui do molto spazio Mettete mi piace al video Ci vediamo I prossimi video Dedicati alle altre partite Della domenica Mi sono guardato Monza Bologna E mi sono guardato Roma Udinese Mentre non ho visto Il derby di Milano Un caro saluto a tutti Ciao